bella ragazzi qui è nexus e questo nuovo commentary su minecraft ho abbassato ancora un po' di più i dettagli che non è che abbia fatto chissà che cosa semplicemente questo e tutto vabbò lo so che farà un po' schifo però così così leverei anche questo vediamo che opzioni mi da non mi dice niente quindi potrei anche tenerlo perché nell'altro andava troppo a scatti non riesco a capire il motivo rain e snow mettiamo fast così va più veloce sperando infatti se vedete va anche un po' più veloce rispetto all'altra volta l'altra volta già tra il computer che era troppo caldo così però vabbò e comunque ho messo a fare qui sta roba qui perché con quelli che avevamo messo l'altra volta non solo due me ne sono venuti quindi non ho dovuto mettere a fare altri intanto che aspetto direi di piazzare la turtle ma non so dove è questo il problema alla turtle e taglie specialmente in sto posto forse sarà per via di questi pavimenti qua che larga così tanto può essere beh intanto comunque tra un paio di giorni mi dovrebbe arrivare la nuova scheda video quindi speriamo che si velocizzi un po' la cosa allora prendiamo la turtle e la ender chest so che la turtle gli devo dare il nome minchia come era già il nome del programma che non mi ricordo più come che si fa buono allora dovrebbe essere label dovrebbe essere label set scava quindi adesso questa qui si dovrebbe chiamare scava se non sbaglio giusto si un po' perfetto e ha bisogno di carburante carburante che cazzo gli metto uh guarda quanto coal anche se mi dispiace la vuole far diventare coal coke però vabbò per il momento va bene questo infatti se vedete minchia sembra fa paura senza stelle senza niente si avevo spostato due mucche quelle lì poi devo anche ricraftarle perchè così non è che mi piaccia dunque dove la possiamo mettere la turtle? non ho idea mmm beh intanto zoomiamo un po' sta mappa ho detto zoom zoom ok dove possiamo metterla? mmm così così andrei di là ok creeper che se ci fa saltare in aria questo coso mi incazzo dopo tutto il tempo che ci ho messo a farla ho capito che ho usato anche la creative pro anche quello ci ho messo sempre un sacco di tempo anche il jetpack occhio che non si scarichi uh cazzo sono il pieno di mostri eh questa sta caricando è normale certo che io sono pirla perchè devo andare a fare queste cose qua di notte cioè sono masochista adesso mi vado a dormire anche perchè da quando ho creato sto mondo ma non ho ancora settato la home quindi ah i letti sono i letti sono non ho idea di là dovrebbe essere intanto dobbiamo aspettare che qui finisce di macerare tutto ok vediamo se intanto ha finito ok cos'è almeno questi qua li sposto si muove qua ah già è giusto sto dicendo non ho messo qualcosa li ho messi quindi l'estrittore ehm straghiamo ma è questo qua anche me lo estrae vediamo no via questo mettiamo questi qua ok ah intanto che aspettiamo vediamo dove cacchio posso metterlo ehm ok perchè non volevo metterlo qui davanti tipo sarei intenzionato di metterlo laggiù dove c'era la lava cioè non proprio dove c'era la lava che sennò non lo fa però quindi lì uh sta salendo da solo ogni tanto si impalla la la testiera non so perchè gioco tanto abbiamo fatto le scarpe anticadute bam mucche maledette uh minchia ma abbiamo un vulcano qui vicino non me ne ero mica accorto enorme sto vulcano ma mi sa che è appena spawnato questo non c'era mica prima boh ma boh noi andiamo di qua uh canyon piano che poi prima o poi ci veniamo anche qui dunque dove possiamo piazzarla io direi al di là di questa sponda lì qua sopra sta casetta sta casetta però questa volta le turtle se si muove la mettiamo a fare un buco piccolo perchè tanto poi ogni volta si interrompe quindi direi di fare tipo un non lo so adesso vediamo tipo un 3 3x3 uuuuuh qui perchè adesso sta ancora ricaricando il mondo oh intanto mettiamoci il carbone e scriviamo e scriviamo refuel 64 poi escavate 2 viene un quadratino io direi almeno di fare 4 vediamo quanto viene 4 eh non è tanta roba però almeno fa più veloce possibile forse già 4 è troppo forse già 3 bastava ah mettiamo soltanto waypoint così anche se non mi posso teletrasportare com'è che già il waypoint punto vedi ma si levano ma perchè mi si levano il waypoint turtle turtle back to game fammi vedere perchè cazzo mi si levano il waypoint ma dobbiamo devo di nuovo rimetterlo a casa perchè se altrimenti ogni volta devo mettermi e rimetterlo non capisco peccato che mi so scordato di metterlo le opzioni di teletrasporto però vabbò vediamo come fa come sta facendo lo smistamento qui poi qua sopra boh ho fatto un coso gigante non so nemmeno io come lo utilizzerò boh poi vediamo anche qui utilizzeremo una mod che prende e mette delle pressu plate ma sono invisibili non è brutta come molto solo che mi chiamò è dorata la ceste con tutta la terra che prenderà vediamo è giusto devo aspettare che scarica questa dovrebbe essere impostata giusta tutto il giallo va laggiù meglio messi i colori meglio il giallo l'ho messo si dovrei averlo messo si 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 l'ho messo ok ok poi vediamo comunque stavamo dicendo che dobbiamo fare quello del pressu plate per non mi ricordo cosa mi pare che dovevamo fare il qr solo che con sta mod come cacchio si chiama già la 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 non mi ricordo il nome cos'è che ho buttato che sono pirla no niente la com'è che si chiama già gregtek ecco non mi veniva in mente il nome è incasinato tutti i crafting quindi probabilmente la tolgo poi vediamo dipende come va la scheda video nuova se non mi fa laggare così tanto non la levo perchè non ho tutto sto cosa perchè più che altro adesso è un po' un casino che mi fa troppo sclerare questa roba che fa così tanto a scatti quindi spero che sai non c'è bisogno cioè se si va va bene non ho bisogno di toglierla perchè posso muovermi più velocemente così vado troppo a scatti cioè vedete cazzo e vabbò e dove cazzo porca troia ripigliati allora sono no messi troppi ah un coppio in più quindi dovrei metterne a fare altri però va bene a 30 ma tanto non bastano anche i 30 scommetto tutto quello che volete 2 2 2 2 2 facciamone 3 no facciamone 4 4 lingotti cioè 4 lingotti 4 fernaili da dore come cazzo si chiama ferro raffinato basta dunque vedi perchè sono già solo due tra queste qui ce ne sono altre due e ho bisogno di altri tre ferri raffinati e una batteria quindi del tin dai allora abbiamo detto del tin che è questo 2 8 1 2 e del ferro raffinato 1 2 sinceramente andiamo a vedere se funziona questo smistamento certo quindi questa qua ancora uno questa qua qua mettiamo questo e questo dovrebbe in teoria prenderli e smiltarli da solo in teoria poi comunque al massimo mi porto io avanti la telecamera spenta almeno fare questo non è che dico tanto almeno fare questo plate bending perchè sennò ci mettiamo 4 episodi solo per fare un paio di pezzi vediamo 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 se c'è dovrebbe essere qua dentro ok perchè non ce sono staranno facendo eh naturalmente sono pirla che pirla che sono se non c'è corrente come faccio e per la corrente qui devo fare un'altra cosa prima creerò delle pompe e con la lava che prenderò dal netter o se forse anche no no una pompa mi ci va per forza poi prendo la lava dal netter e gli do corrente con la lava momentaneamente poi vediamo altre fonti di energia che tanto ce ne sono una marea con questo pacchetto boh e anche se non abbiamo fatto niente questo episodio lo finirei qua se questo video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi al mio canale ma soprattutto commentate